Sì, tre, quattro, tre, due, uno, via! 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 Sì, tre, quattro, tre, quattro, tre, due, uno, via! Sì, tre, quattro, tre, quattro, tre, due, uno, via! Sì, tre, quattro, 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 tre, quatt da te voler lo scuoto suo sempre il coso la speranza non parla non trova sencetto che è subito non mi aveva mai guardato non mi aveva mai sognato tanto a me ora sei reale è una cosa che non ho mai visto prima in te guarda che io non so neanche io però o più o più o più aspetta un po' e vedrai chi colpirà quello che accade è una grande lo vita quando Gino venne a sapere che Arturo era stato ucciso si chiusi in un commento e nessuno riusci più a farla sorridere fine che storia me la proposta io sapevo che ti sarebbe piaciuta posso chiederti una cosa cosa una seconda possibilità vorresti cenare con me stasera per favore cenare io con te ma è stato bene grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.